Signori, vi do il benvenuto in Batman Arkham Knight. Ah, non so, non è che dovete fare come un video. Ditemi se volete, se devo comprare, sapete gli altri Batman, sapete Arkham City, Arkham... E questo, 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 perché ci sono gli altri, quelli precedenti. Eh, eh, vabbè, ditemi se volete. Sì, allora, devo togliere la vibrazione a joystick. Io so già la storia, perché parecchio tempo fa me l'avevo spoilerata con Mike Sauce. Allora, cosa vuoi? Caffè macchia? Certo. Ok, insalata di pollo, ma senza condimento. No, ma sai cosa? Le porto mille c'è, con della pancetta. Non dirlo a mia mamma. Come vuoi tu, agente? Se vuoi altro caffè, basta chiedere. Ma c'è un boss, quanto è un litro di caffè qua? Ehi, mi scuso per l'interruzione, agente. Vuole un autografo. Sono lo youtuber Gabirò, piacere di conoscerti. Questa è qui. Comperiamo da solo, è triste, è vero. Ma sei affrontato il cliente che fu. Non si può fumare, è l'amador. Conosco un buon essetista. No. Sì. Conosco anche un buon operaio. Se il negozio si sta sbriciolando come niente. Beh, ma io posso saltare, non posso saltare. Sì. Ciao. Prego, no, dimmi, dimmi. Sono tutto orecchio. Vuoi un autografo? Te lo posso fare se vuoi. Occhio, là dietro, carta e penna. Sì, sì. Ma dimmi, dimmi. Sono tutto orecchio. Qualche domanda, qualche informazione. Che programma uso per registrare. No, dai, dai. Dimmi, prego. Non gli interessava. Era un hater. Ditemi, se devo cambiare la cornice oppure... Sì. Però la grafica di questo gioco a me stupisce sempre di più. Signori, siamo nel gioco. Fatemi sapere se volete questa serie. Buonasera. Barbara è la figlia. Sai ancora fare entrate triunfate? Come procede l'evacuazione? L'ultimo autobus ha lasciato la città un'ora fa. Sono felice che mia figlia sia fuggita in tento. Ora inizi il vero lavoro. Indizi su Crane? Stiamo rintracciando un veicolo militare sconosciuto che scorrazza a Chinatown. Però la città è proprio bella. Ma ci è sfuggito. Con l'evacuazione di mezzo non ho abbastanza uomini in città. Se lo trovi, di ai tuoi di non attaccare. Ci penserò io. Pensi davvero che lo spaventapasseri sia così folle da far esplodere un'arma chimica a Gotham? Se non permetterò che accade agente. Se volessi contattarmi sarà una lunga notte. E il mio numero di telefono. No. Un telefono... Il back cellulare. Mi potevi dare il numero. Io sono il telefono aziendale. Vabbè, ti do... Sì. Che ne so. Non è che gli dà proprio il numero. Un telefono aziendale, un telefono di servizio, sai. A due cellulare. Strarico questo. Ultramiliardario. Però no, facciano le questioni. Ti do proprio un telefono. E ora quello è per lui. Mi devo stare zitto? Sta attento a forse. Non fa questa cosa da tutta una vita. No, sta attento. Che poi sì. Un po' di incoraggianto. Allora. Salva l'agente di polizia scomparsa. Che poi anche... Ok, le missioni sono lunghe. Però le missioni secondarie sono parecchie. Che figo. Allora. Eh, sì. Beh, ovviamente. Quando il gioco ci sbloccherà il nuovo costume. Eh, saremo molto più forti. Beh, calcolate che noi abbiamo appena iniziato. Eh, eh, sì. Ci sta. Bellissimo. Quando fa questa cosa. Tipo a rallenty. Vuol dire che abbiamo finito. Non c'è di che. La città è perduta. Non abbiamo più speranza. Resta qui. L'ha messo su un palazzo. Come cazzo scende? Ma sto povero Cristo. Scusa. Ma questo l'ha messo qua sopra. Sì. Poi vabbè che puoi entrare dentro là. E scende. Vai. La Batmobile. Sì. Perché questo gioco. Alla Batmobile. Vabbè, sì, vabbè. Di solito le persone normali, sai, chiamano un taxi. Vanno a prendere la macchina che hanno parcheggiato in garage. C'è cura per strada. Questo. La macchina viene da lui. Umile. Che vuoi dire. Ma è omologato stamattina per girare. Perché non ha la targa. Non ha le frecce di posizione. Non ha... Non ha... Non cazzo. Sei iscritto al canale di Gavidò? Non sei iscritto al canale. L'ultima possibilità. Ti sei iscritto? Ti sei iscritto? Appunto. Sì. Non hai un account Google? Stai mentendo. Vedi se ti iscrivi. Mi piace, mi piace scherzare. Ma io mi chiedo. Non c'è una webcam su questo corso? Non c'è niente. Lei come cazzo lo vede a Batman? È un gioco. Poi direte, sì, è un gioco. Capito, però? Vabbè, intanto appunto la macchia. Bridge. Allora, eh... C'è il codice. Te non mi tolto, Bridge. Oh, bene. Ah, questo che mi cazzo schio, scusa. Toc, toc. Posti, posta. Questi mani di Giova, ma non vengo da Genova. Bridge. Una telecamera, facciamo, facciamo la live. Allora, sì, buonasera. Voi non mi avete aperto, io comunque vengo qua a lavorare. Beh, poi sono ieri. Comunque, noi, recentemente, abbiamo finito Lego Batman. Perché non iniziamo uno con una grafica più alta? Oh no? Da un'occhiata alla camera. La camera? Sto in camera. Sta per arrivare. Ascolta, Pazzoide. Noi ora usciamo di qui. Piano piano. Niente colpi di testa o le salta al cervello. Non me ne frega. Tanto è un emicro di Batman. Non me ne frega. Ma solo uno di noi uscita. Ammazzala pure. Se non mi faccio saltare la testa. È un emicro di Batman. Sì che non uccide Batman, però se non è lui ad ucciderla... Non me ne frega. Gran bella cosa, l'immunità naturale. Vabbè. Ma non ha freddo. Dimmi. E se per caso non volessi. Ti specio. Darò fuoco a ogni pianta di Gotham. Mannaggia cazzo. Che riunione. Alcuni sarebbero... Che ne so, bo... Cannone da 60 millimetri operativo. 60 millimetri operativo. Oh la madonna. Antisommossa affamata. Come cazzo si spara qua? Foste chiede. A posto. E beh. E beh. Comunque. C'è chi userebbe... Come dire. C'è chi userebbe più senso. Batman ha la macchina radio comandata. Ma che pure io ho le macchine radio comandate. Ma quelle da 10 euro dici. Che compri al cinese. Vabbè ce l'avevo da piccolo. Vuoi passaggio? I posti stanno dietro. Dobbiamo andare. Se voi non vedete un cazzo non è colpa mia. E' il gioco che è molto scuro. No perché io no mi sono accorto. Voi io nella schermata di OBS. Vedo quello che vedreste voi. No perché proprio il gioco è scuro. C'è il gioco è scuro. Tra i piani inferiori. Zona di isolamento. C'ho fatto il povera vecchia. Dove la parcheggio? La parcheggio qua. Un... Un sparate a Batman. Un sparate a Batman. Ma è l'unico che giro con questa macchina. Come che manco lo riconosce? Ma sono a posto. Novità nell'analisi della tossina della paura. Però questo costume non mi piace proprio. Cioè... Sinceramente non vedo l'ora che il gioco mi faccia cambiare costume. Che è una dei picchi. Dove hai imparato abitare? Ah, ha la patente. Sì, com'è. Non vabbè. Se avete problemi di piante chiedete per lei. La password cos'è? 1, 2, 3, 4. Oh no. Ecco, vedi? C'è questo. Questo di questo qua. Beh, poi... Ci sono questi di questi cadaveri. L'enigmista che è una amministraia secondaria. Poi questa è quella principale. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, mettete mi piace. Ditemi se... Come dire? Volete che io porti questa serie. Se così mi raccomando, fatelo sapere con un bel mi piace. Noi ci vediamo ad un prossimo video. E noi... Ci si becca. C'è questo video vi è piaciuto. Grazie a tutti